Bene, ben trovati amici, la settimana della cucina italiana nel mondo, io sono Anuelo Serra e vi parlo della Polonia. Che dirvi, la settimana della cucina italiana nel mondo è ospite dell'Istituto Italiano di Cultura di Varzavia e prepareremo delle ricette regionali in tema, con quello che è il tema di quest'anno, la regionalità nella tradizione per l'innovazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia ha una cucina che è talmente infinita che è presente in tutte le sue regioni, che è presente in tutte le sue province, in tutti i suoi territori e quindi ha una cucina che è veramente, a parer mio, non parlo di parte, unica al mondo per tutto quello che può offrire, grazie alla natura, grazie alla sua storia, grazie a degli chef fantastici che vanta la federazione italiana cuochi, grazie al buon gusto e soprattutto ai buoni abbinamenti nella cucina salutaristica, nella cucina vera, nella cucina mediterranea, nella cucina che ci fa vivere delle grandi, grandi emozioni. Ma veniamo a noi, con cosa iniziamo? Iniziamo con un pane, il pane carasau. Io sono sardo ed eccolo qua. È un pane particolare, è un pane che ha una doppia cottura, quindi è un pane che si può conservare a lungo nel tempo, è un pane che addirittura gli archeologi dicono che il carasau era già mangiato nell'isola prima del 1000 avanti Cristo. Oggi io che cosa vi presento? Vi presenterò tre ricette. La prima è il pane frattau, è un pane che è questo, che viene imbevuto in un brodo di pecora che io ho già fatto e mi sono già portato avanti, una salsa di pomodoro e un uovo poché che faremo alla fine per chiudere il piatto. Poi si condirà con del semplice o pecorino o parmigiano grattugiato. Ma bando alle ciance, iniziamo i lavori. Buon divertimento! Nella padella cominciamo a inserire un goccio di olio al basilico e ci portiamo avanti per creare la salsa. Facciamo una salsa di pomodoro. Io sto mettendo della cipolla bianca con della carota. un pizzico di sale. C'è chi piace a chi non piace. A me piace il peperoncino perché dà sempre quello sprint in più, insomma, non tanto. Un peperoncino non succede assolutamente niente, lo possono mangiare tutti, non da un pizzico di spinta, niente di particolare. Mettiamo un pochino di pepe. Esce fuori un profumo, ragazzi, che mi dispiace per chi non lo può sentire. E incomincio a mettere subito i pomodorini pizzutello. Il pizzutello è un pomodorino che si trova in Campania. E lo aiuto con un san marzano. Quindi mettiamo due tipi di pomodori. Adesso lo andiamo ad arricchire anche con del basilico. Il basilico non si taglia con il coltello. Si strappa con le mani e dà tutto il suo profumo, tutta la sua fragranza. Tra l'altro il basilico ne approfitto per parlare di lui perché è un alimento molto, molto interessante perché è un alimento che si può adoperare come digestivo, che si può adoperare nelle tisane, che si può mangiare anche così, crudo, ed aiuta sicuramente la digeribilità. La procedura prevede questo. Il pane verrà imbevuto in questo brodo, verrà passato, verrà aiutato con questa salsa, spolverato con del pecorino o del parmigiano e si fanno due o tre strati, tipo una millefoglie. Dopodiché si conclude mettendo quest'uovo sopra. Quindi è un piatto molto ricco e sostanzioso. Ho acceso l'olio per presentarvi un'altra preparazione del nostro pane. Quindi questo è il nostro pane carasau o carta da musica, così chiamato in Sardegna. E adesso lo rendiamo e lo trasformiamo in pane guttiao. Il pane guttiao si può fare in due modi, o fritto o al forno. Andiamo. Il pane guttiao si condisce con del rosmarino e con del sale. Basta, non vanno aggiunti altri tipi di condimenti. Con questo pane qua noi faremo dopo anche un dolce, il dolce della nonna, però ci arriviamo più tardi. Piccole idee della tradizione per far sì che con due alimenti, guardate che colore spettacolare. Con due alimenti, ecco qua. Con due alimenti si può riuscire a creare un qualcosa di veramente molto interessante. Come lo insaporiamo? Con del sale e lo insaporiamo con del rosmarino. Finito. Vi dicevo che il pane guttiao si può fare in due modi, o fritto oppure al forno. Al forno lo potete mettere su una teglia sopra della carta da forno o sopra dei tappettini e lo cuocete a 170 gradi per 5-6 minuti. Un goccio di olio a crudo, sale e rosmarino. Finito. Niente di più. Quando lui comincia a diventare bello biondo, io sto in Polonia quindi il biondo qua va di moda, è pronto. Tirate fuori, lo fate riposare un minutino e poi scrocchialate lì che esce fuori una cosa. Oioioioioioi. Comunque, io nel frattempo vi faccio vedere questo. Allora, prendo del sale. Sporco il mio piatto con del sale, anche perché dice che il sale porta bene, no? L'olio fa ingrassare. No, non è vero. L'olio è una cosa fantastica. Forse per me, io lo metterei anche dentro al latte la mattina. L'olio extravergine d'oliva è una cosa fantastica. Peggio per chi non se lo può permettere o peggio per chi non capisce qual è la differenza fra l'olio extravergine di oliva italiano, italiano e altri tipi di oli. Pane gutiao fritto. Lo insaporiamo. Rosmarino. E il gioco è fatto. Niente di più. Ne facciamo altri due per andare sull'abbondanza. Visto che siamo all'interno della settimana della cucina italiana, vi ricordo che siamo ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, ai quali vanno i miei ringraziamenti per conto della Federazione Italiana Cucchi, Delegazione Polonia. Ecco qua. Questo è il pane gutiao, specialità della Sardegna. Prendiamo il gutiao che abbiamo fritto. Lo mettiamo qua. Nel frattempo cosa faccio? Prendo della ricotta. Prendo del mascarpone. Prendo dello zucchero a velo. Prendo un limone e un arancio. La mia grattugia. Mi raccomando che siano limoni e aranci non trattati. Tanta roba. E creo questa crema con ricotta, mascarpone, zucchero a velo, scorza di arancio, scorza di limone e ci mettiamo anche un goccio di panna. La mia panna è qua. È una più 36 come livello di grasso. Ecco qua. E faccio questa crema. E faccio questa crema. Si fa espressa. Un minuto. Senza stare a perdere tempo. Un attimo. È pronta. Wow. Bene. E io vado a formare la mia millefoglie di pane gutiao. Un attimo. Un attimo. 2. 3. 3. 3. 5. E noi mettiamo ancora un altro perché vogliamo abbondare. Perché in questo periodo abbiamo bisogno di addolcirci ulteriormente la bocca. Eccolo qua. Chiude il piatto. Ecco qua. Eccoci qua, amici. Ancora un attimo. E vi faccio vedere come concludiamo. Concludiamo con dei frutti di bosco che sono la mia passione. E in più riescono a darci colore, riescono a darci acidità. Questa è una mia idea. Poi voi potete concluderlo con del cioccolato, con dei pistacchi, con delle nocciole. Come più vi aggrada. Ecco qua. La mia millefoglie di pane gutiao. Danuelo è tutto. Vi ringrazio per averci guardato. Spero che vi siamo stati di compagnia. Spero che vi sia piaciuto quello che vi abbiamo presentato. Tre ricette. Pane fratau. Il pane gutiao. Il dolce della nonna. Quindi che è la millefoglie di pane gutiao. Un abbraccio. Un caro saluto dalla settimana della cucina italiana dalla Polonia. Anuelo per la Federazione Italiana Cuochi, Delegazione Polonia e per ringraziando l'Istituto Italiano di Cultura di Varzavia. Vi ringrazio e vi dà appuntamento alla prossima ricetta. Baccioni. Ciao. 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 Ciao.